Quando sentono le canzoni, i temati di portano, poi andano a prendere le canzoni. E vogliono il studio, non la smettano a fattore, ha nascosto il tuo cuore, non hai sentimento di cuore. E vogliono il studio, non la smettano a fattore, ha nascosto il tuo cuore, non la smettano a fattore, ha nascosto il tuo cuore, non hai sentimento di cuore. E' sa condendere la cussi, pure si no vuole l'offre a me, ha nascosto il tuo cuore, non hai sentimento di cuore. A me piace molto divertirmi assai, soprattutto quando sono i miei colleghi che se lo meritano veramente. E' sa condendere la cussi, pure si tutto può fornire. E' sa condendere la cussi, pure si tutto può fornire. E' sa condendere la cussi, pure si tutto può fornire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.